Ora è ufficiale, sono tre i candidati alla carica di primo cittadino in corsa alle prossime elezioni amministrative. A Teramo in programma ricordiamo il 14 e 15 maggio. A sfidarsi troviamo il sindaco uscente Gian Guido D'Alberto, sostenuto da sette liste. PD, Movimento 5 Stelle, insieme possiamo, Teramo vive, Bella Teramo, Innova Teramo, in comune per te. Per la continuità di un percorso che abbiamo messo in campo nel corso di questi cinque anni, che ha profondamente cambiato in meglio la nostra città. Non dimentichiamo da dove siamo partiti. Un progetto aperto, inclusivo, che ha affrontato anche l'emergenza del Covid, resistendo e rilanciando la nostra città con una serie di investimenti importantissimi che proiettano Teramo verso il futuro. Ora, grazie all'attività di questi cinque anni, Teramo può continuare a crescere, può continuare ad essere il capoluogo di riferimento, con tanti investimenti, con un'attrattività, una visibilità, un patrimonio culturale che è stato restituito al patrimonio di una comunità che si apre come riferimento regionale e nazionale. Poi troviamo Carlo Antonetti, ex presidente del Teramo Basket in Serie A, candidatura fortemente voluta in prima battuta da un ampio movimento civico e sul cui nome alla fine si è compattato anche tutto il centrodestra. Cinque le liste in suo appoggio, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, con noi moderati, Amo Te e Futuro In. Inizia oggi una straordinaria avventura elettorale, i cittadini devono scegliere tra continuare nel declino o il cambiamento. Noi rappresentiamo il cambiamento, vogliamo ridare energia e ruolo di centralità a Teramo valorizzando le eccellenze di questo territorio e facendo tornare il sorriso, l'entusiasmo e il colore a una città che negli ultimi anni è divenuta molto grigia e triste. Quindi noi dobbiamo ripartire dai cittadini per costruire un percorso politico importante che possa dare una visione strategica di sviluppo, di attrattività della nostra città. Infine Maria Cristina Marroni, che ricordiamo nella prima parte di mandato del sindaco d'Alberto, ha ricoperto il ruolo di vice sindaco ed è sostenuta da tre liste, Teramo protagonista, Teramo sul serio e azione politica Teramo. Devono scendere me perché posso dare un colore davvero diverso a questa città, sarà una campagna elettorale un po' da d'annunzio, sarà una campagna elettorale particolare, darò un po' di tono, un po' di vivacità e perché ho esperienza, perché faccio politica da tanti anni, perché sono stata in Senato tanto tempo, quindi conosco gli atti amministrativi perfettamente, perché ho una visione di questa città e io dico si potrà fare quello che non si è potuto fare finora. Grazie.